Io posso glorificare la parola di Dio, tu puoi glorificare la parola di Dio. Quando possiamo fare questo? Quando diamo vita alla parola, quando diamo veridicità a questa parola, quando noi diamo credibilità a questa parola, con la nostra vita trasparente, pulita, libera. Io do credibilità alla parola, io glorifico la parola quando ne divento trasparente testimone. E il sintomo più grande di questa glorificazione è la gioia, quella gioia che noi oggi ritroviamo nell'Apostolo Paolo, nell'Apostolo Barnaba, che pur non accettati, che pur respinti, scuotono la polvere dai loro piedi, ma lo fanno con un grande gesto di libertà, con un grande sintomo di gioia, con una grande libertà. Questa gioia che oggi noi vediamo nei discepoli, che pur perseguitati sono gioiosi, può essere anche la nostra gioia. Anche noi possiamo glorificare la parola quando questa parola in noi diventa una presenza e quella presenza diventa conoscenza del Padre. Filippo e noi oggi siamo invitati a riconoscere il vero volto del Padre, ad abbandonare la visione approssimativa che ci siamo costruiti di Dio e che continuamente intossica la vera immagine di Dio, il suo vero volto, la sua vera identità. Dio abita in Cristo, solo in Lui noi troviamo la verità che è il Padre e ritroviamo il nostro vero volto, volto di uomini gioiosi e pienamente realizzati. E l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi.